Dall'8 dicembre al 6 gennaio a Castelcastagna torna la casa di Babbo Natale. La novità assoluta di quest'anno è che Castelcastagna ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Babbo Natale. È vero, siamo alla quarta edizione della casa di Babbo Natale a Castelcastagna e ci sembrava doveroso, dopo quattro anni insieme a Babbo Natale, di concedere la cittadinanza. Per cui verrà proprio inaugurato il monumento a Babbo Natale, un monumento alto due metri e contestualmente consegneremo la cittadinanza, conferiremo la cittadinanza onoraria a Babbo Natale. Grande attesa per quel momento. Siete partiti in sordina quando avete deciso di allestire per la prima volta la casa di Babbo Natale. Poi c'è stato un successo clamoroso per Castelcastagna, tantissimi visitatori, oltre 50.000 e anche personaggi famosi che sono venuti a visitarvi. Mai avremmo immaginato un risultato così grande per un piccolo territorio. Per cui questo veramente ci gratifica tantissimo. È chiaro che se si lavora bene si producono ottimi risultati. Con questa iniziativa noi abbiamo ridato veramente luce e lustro alle aree interne che sono capaci e in grado di fare grandi cose. In effetti sono stati tantissimi visitatori, anche personaggi noti, questo è vero. Quindi questo ci fa immensamente piacere. L'inaugurazione è l'8 dicembre alle 17 e ci saranno delle vere renne? Sì, assolutamente. Babbo Natale arriva e arriverà con le vere renne. Quindi alle 17 chiediamo a tutti i bambini di venire. Ci saranno anche, verranno anche regalati gadget ai bambini che ci saranno. Anche quest'anno il BIM sostiene la casa di Babbo Natale. Sì, direi che è un piacere perché comunque è uno degli eventi di maggiore attrattiva in questo periodo su quella porzione di territorio e non solo su quella porzione di territorio. In quanto ormai possiamo dire che è un evento che si spinge tranquillamente anche fuori dalla provincia con visitatori, ricordavamo 50.000 presenze già l'anno scorso, con visitatori che arrivano anche dalla provincia di Pescara, dalle province limitrofe. Quindi un evento importante anche per smuovere un pezzo di economia legato a questa forma di turismo nel senso che ci sono già prenotazioni nelle strutture ricettive della zona e quindi sicuramente un evento importante e da un punto di vista ricreativo ma anche da un punto di vista promozionale del territorio.